Sarà solo? Sì. Ciao. Ciao. Eccoci. Eccoci. Come stai? Bene, bene. Non posso lamentarmi. Che cosa stai facendo? Stavo mandando delle mail. Lavoro? Sì. Poi lavoro, poi prima ho cucinato. Stavo in cucina, quindi mixo le cose. E quindi come li stai passando questi giorni? Ma devo dire che il lavoro un po' mi salva rispetto alla regolarità. All'inizio sono durissima perché non capivo niente. Cioè non era tutto ribaltato. Mi ribellavo, no? E invece in questi giorni, poi più passa il tempo, più mi do delle regole. Tipo? Tipo è banale, eh. Ti svegli la mattina comunque sempre alla stessa ora, dal lunedì al venerdì, sempre. E mi lavo e mi cambio. Cioè quindi la prima cosa, la seconda settimana non l'ho fatta, no? Per cui stavo un po' in pigiama e in tuta. Invece la regola di cambiarsi è utile. Poi... Quindi con le col come facevi? Beh, sai le magliette così, cioè... Le magliette così, cioè... No, sotto, cioè il pigiama o la tuta non si vede, no? Per cui... E poi, che ne so, l'attività fisica è la cosa che mi salva. Mi ha sempre salvato nella vita e mi sta salvando adesso. Quindi cosa fai? Faccio workout, esercizi, tanto yoga. Ho riscoperto il fit up, quell'attrezzo che ho dello yoga in casa, che non l'ho mai usato bene. Adesso... Stai in giù. Stai in giù. Ma ci sono tanti esercizi anche di yoga per la schiena, per le gambe, per l'allungamento, le torsioni. Invece, in casa non ho la sedia per lavorare bene, no? Per cui sto scomoda. Cioè, non ho l'attrezzo... Quindi, veramente, devo... Una mattina... Sono catorcio. Devo fare ginnastica. Ma c'è un posto della casa che hai battezzato come il tuo posto in questo momento? Dici, questo... Qua mi sento bene, energeticamente. Sì, perché il sole entra da delle finestre a sud, quindi nel soggiorno c'è la luce e lo faccio più vicino possibile alla luce. Cioè, cerco di stare alla luce del sole. Ma durante lo yoga oppure durante tutta la giornata in generale? In generale cerco di stare a parecchio dalla luce, perché è importante. Poi guardo... Mi prendo delle pause, delle pause caffè. È tipo come un gatto, vado alla finestra, salgo sopra il divano, mi appoggio sul davanzale e guardo fuori. Guardo il tram. Quanta gente c'è nel tram, quanta gente passa, si porta scherino. Fai le multe, tipo. No, però anche perché dove abito io è in periferia, cioè non è che c'è gente che passeggia come in centro, per cui non c'è quasi nessuno. Però guardo un po' che succede fuori, soprattutto respiro aria. C'è qualcosa di particolare che hai notato, magari qualcosa di ricorrente, che tu vedi una signora che innaffia le piante sempre alla stessa ora, oppure una persona che porta a spasso il cane. Però visto che saluto i vicini dal balcone, nella corte interna, cioè i vicini mi salutavano, una cosa che non succedeva, altre piccole cose, non tanto al balcone, ma magari quando scendi e incroci gli altri è un po' diverso adesso, ti fermi a parlare di più. Bussola vicina, cioè faccio delle cose che prima non facevo. E quindi non c'è paura nell'approccio con l'altro? C'è, non è così, cioè non siamo vicini, non siamo fisicamente vicinissimi, quindi magari la vicina giustamente non entra in casa mia. Le ho chiesto la scala in prestito, dopo una chiacchierata di mezz'ora sul pianerottolo, l'altra volta che me l'ha prestata siamo entrate in casa su insieme e me l'ho dato una mano. Questa volta invece me l'ha portata fuori lei, lei è anziana, l'ho abusato io per chiederle se voleva che facessi qualcosa per lei, la spesa, i farmaci, qualsiasi cosa, buttare la spazzatura. E alla fine è lei che mi ha fatto un favore a me, passandomi la scala. Ma gesti di questo tipo che hai ricevuto oppure hai donato con persone a te vicine fisicamente in questo momento? Cioè io ho chiesto nel condominio a più persone se avessero bisogno, sono tutti anziani però attivi, quindi ancora in forze, che hanno una rete sociale e questo è molto bello. Quindi hanno comunque figli, nipoti, la signora di fronte a me non esce di casa, però il nipote le porta la spesa così, cioè lei è tipo le dà la paghetta e si vengono, quindi mi ha raccontato. Quindi è questi, trovi comunque delle, ho dei signori sopra di me, sono loro che aiutano la figlia che è incinta con la spesa, quindi il contrario, anche se sono più grandi, più adulti, più anziani, sono loro che aiutano la figlia. Quindi nessuno nel mio palazzo ci ho chiesto e non hanno bisogno, sembra. Hai ricevuto sorprese, tu invece magari sul tuo tappetino all'ingresso o qualcosa di questo tipo? Io all'inizio, inizio, la prima settimana, cioè io sono la sesta settimana in casa. Da sola? Da sola. Alla prima settimana ero molto sconfortata e già nei primi giorni ho scritto in bacheca, ho messo questo volantino, questo biglietto, andrà tutto bene, no? Nei primi giorni. E la cosa più bella che si è successa è che due giorni dopo, neanche forse due giorni dopo, ho trovato in bacheca un altro biglietto. Siamo forti con un cuore. Quindi quella cosa lì di non sentirmi sola. E poi la cosa più bella per me, forse in questo momento, infatti sia sola, c'è tutto questo silenzio, è che sento i vicini. Cioè sento la loro televisione, le loro chiacchiere, loro che litigano, parlano al telefono. Eh, i rumori, i rumori dei vicini, lo appendono in un quadro, cioè non ti fa sentire sola, no? Sarebbe bello. E c'è qualcosa che hai iniziato a fare grazie a questo periodo di forzata reclusione? Eh, pensavo che avrei pulito, invece la cosa più lontana da me è sistemare l'armadio e pulire. Non ce la stai comprendo? No, perché è una cosa che per me è più che altro sistemare l'armadio, quelle cose che ti lasci, no? Perché è una cosa talmente, forse per me noiosa, che neanche in questo momento riesco a farla. Però ho comprato l'asse da stiro, il ferro da stiro, non stiravo da dieci anni e quindi tipo una meditazione, la sera a stiro. Come se fosse una meditazione alla fine, mentre guardo un telefilm, sto in piedi. Ti capita di avere paura? All'inizio sì, all'inizio sì per gli altri, per gli altri, mia mamma, mio nonno e le persone più anziane. Dopo sì per me, perché comunque da quasi 42 anni senti che i coetani sani muoiono e quindi sì, c'è da questo punto di vista. Per cui razionalizzi questa cosa, cerchi di tutelarti, tutelare gli altri, però penso sia normale. E quando hai paura che cosa fai per calmarti, per cercare di far passare quel momento? Beh, respiro molto, quindi tutto banalissimo, lavoro sul respiro. E poi in questo lo yoga mi ha aiutato, cioè devo dire la verità che una pratica di yoga, rallentare, movimenti lenti, un'attività fisica ma anche lenta, in questo nella paura aiuta. Nella gestione della paura, dell'ansia. Quindi senti che ha effetto, ha efficacia su di te? Sì, cioè una pratica più intensa ti dà energia, una pratica più rilassante ti dà calma, quindi rispetto a quello di cui hai bisogno, poi delle volte mi rilassa cucinare. O stirare. O stirare o cucinare o bere la birra con le amiche su Skype. Gli appuntamenti fissi. Una cosa che ho notato, che non avevo mai fatto caso, è il bisogno mio della puntualità negli appuntamenti in questo momento. Se tu mi dici, ci vediamo domani, ci sentiamo domani alle 5, è come se fosse un'ancora. Certo. Cioè mi tiene in un certo senso a galla, mi tiene viva, mi dà speranza il fatto di sentirti domani alle 5. E se non ti sento alle 5, mi crea confusione, mi crea un disorientamento. Quindi la puntualità in questa fase, cerco di rispettarla io e di spiegare agli altri che ne ho bisogno. Un po' mi ci sono arrabbiata con mia sorella, no? Sul fatto che procrastinava, procrastinava. E io dico, ti sento o non ti sento? Cioè entro in confusione. Quindi la regolarità. Gli appuntamenti, c'è una scadenza. E poi, nelle cose anche importanti, nella telefonata con un'amica, a parte quelle improvvisate. Quindi l'improvvisazione è sempre bellissima, la telefonata che non ti aspetti. Però se ci diamo un appuntamento, mi piacciono anche queste cadenze, questi rituali, questi riti. Anche la chiamata, mi dici, ti chiamo alle 7 e mezzo. E' bello, io ti aspettavo, aspettavo la chiamata. Qui. Ma il tempo passa più velocemente o più lentamente, secondo te? In queste settimane. A me passa velocemente. Anche a me. Cioè, è strano? Io ho pensato, sono già la sesta settimana in casa, è incredibile. E tante cose non le ho fatte. Cioè non ho ancora sistemato i vestiti. Non ho ancora scartavetrato l'armadio. Cioè quindi ho degli obiettivi che mi do settimanalmente nel tempo libero. Sistemare i fiori, fare queste cose piccole. Di cazzo, che non riesco a fare, perché il tempo passa e magari mi rilasso in un altro modo. Quindi è strano. Ti avessero avvisato, guarda che da domani, per due mesi, stai chiuso in casa. Che cosa avresti fatto quella sera lì? O quel giorno lì? Probabilmente avrei fatto scorta di cose, di oggetti, di cose, di libri. Non lo so, ho chiesto a una persona di fare la quarantena con me. Non ho idea. Cioè sono da sola e mi mancano delle cose, no? Ho tanti libri, però non sto riuscendo a leggere. E questo è un punto strano. Sto vedendo più film, più cose, diciamo, interattive quasi. Vorrei fare un puzzle, ma non ho un puzzle. Non lo so, mi fa strano. Cioè cerco di dire, non ho mai comprato niente. Non sto comprando niente online. Cioè ho pensato, quando uscirò e potrò comprare, preferisco comprarlo nel negozio sotto casa. Cioè mi sono detta, posso fare a meno di un puzzle, posso fare a meno di una maglietta, posso fare a meno di qualsiasi cosa. Preferisco pensare al commercio di vicinato in questo senso, per cui non... Però ecco, cioè sono da sola e penso, chissà come sarebbe stato fare la quarantena, magari non da sola. Chissà, con qualcuno. Cioè organizzarsi per poter radunare la famiglia prima, oppure pensare a una cosa del genere. Vuoi dirmi un'ultima cosa? Ma questa è la coperta di un caro amico che mi ha regalato, che mi tiene caldo e mi dà conforto. Magari la riconosci. Cioè questa cosa qua dell'affetto me lo tengo addosso. Sì. E quindi è... No, che gli amici in questa situazione sono ancora più importanti, le telefonate, i momenti in cui ci sei per l'altro, esserci la presenza. E riscopri, risenti degli amici che non sentivi da tempo, fai delle telefonate molto più lunghe. Non so, è un po' questo. Ed è ritornata nella tua vita una persona grazie a queste settimane, oppure proprio in queste settimane perché appunto c'è più tempo, c'è più spazio, c'è più respiro? Amici, amiche. No, non una persona... però l'amicizia ieri sera, ieri ho fatto una merenda, una Skype con delle amiche e queste tre amiche diverse, anche in città diverse, in Europa, una a Barcellona, una a Milano, che non si vedevano. Ci conosciamo tutti, ma tra di loro non si vedevano da anni, ma hanno detto tutti che il punto in comune ero io, l'ancora, chi teneva un po' il filo delle conversazioni, chi ha messo insieme le persone. Questa cosa di sentirmi, quella che un po' costruisce queste reti di amicizia, che le tiene più che altro ancora in vita, questo mi fa piacere. C'è un riconoscimento che mi fa piacere, quindi no, non ho trovato nessuno in particolare, anzi, forse le persone che non c'erano prima si sono allontanate ancora di più. Chi pensavo di sentire che mi ha fatto strano non sentire, no? Sendo io comunque a Milano, nell'occhio del ciclone Lombardia, persone di altre regioni, che non si sono fatte sentire, questo un po' ha suscitato un effetto strano. Però... Grazie. E mi fa piacere essere chiamata, qui grazie. Ripetiamo se vuoi. Tra due settimane... Ti richiami? Sì, anche prima. Dai. E comunque, quando finisce tutto questo, ci ubriachiamo a mare con miliardi di birrette. Madonna, che voglia di birrette, di concerti, di musica, di cultura, che quello non c'è. Cioè, nonostante tutti gli strumenti, ecco, faccio fatica. Cioè, quel tipo di ragionamenti, quello mi manca. Cioè, fino a quando si può star così? Boh, non lo so. Sì. Non si può. No. Ti incattivisci. Sì. Cioè, perché c'è un tipo di paura che è strana. Cioè, io vado a fare la spesa pochissimo, mi metto le scarpe raramente per buttare la spazzatura e fare la spesa, no? Ed è sempre peggio, perché comunque la paura di uscire aumenta. Per cui questo tempo non può essere... Cioè, spero che non sia lunghissimo da una parte, dall'altro bisogna tutelarsi. Però, cioè, il tema della paura è un tema grande. Infatti penso che tutti noi, in primi, sì, una volta usciti da qua, avranno bisogno di un percorso di accompagnamento proprio, cioè di... Parlo appunto di sapsicologico, di tornare a capire, a ragionare su dei temi, su se stessi, su dei temi importanti. Condivido. Grazie mille, Roby. Ciao, Andre. Grazie per la copertina. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.